Un carissimo saluto a tutte e tutti i liberi ricercatori. Oggi un breve video risposta ai credenti del globo che spesso fanno questa domanda. Se la Terra è piatta, perché allora tutti i pianeti, il Sole e la Luna sono delle sfere? E come vedete qui, si capisce quanto sono gretti nel rappresentare nello spazio una Terra piatta nel sistema solare. La risposta è molto semplice. Voi credete che nel cielo si vedono le sfere perché questo è quello che vi racconta la TV. È quello che vi hanno iniettato attraverso la scuola obbligatoria. E se le osservate col telescopio vi sembrano sfere, ma ciò che si vede sono semplicemente delle luci tonde. Non potete sapere se si tratta di sfere o meno. Presumete che trovandosi a centinaia di migliaia di chilometri di distanza siano sfere. Perché questo, ripeto, è quello che vi mostrano, come qui, da come disegnano i pianeti rotondi. Comunque si tratta sempre di immagini realizzate secondo fantasia, che vi fanno pensare a sfere una volta memorizzate nella vostra mente. Si tratta di quello che vi mostrano sui giornali, al cinema, eccetera. Osservate il sole. È un'immagine realizzata al computer dalla NASA. Ovvio che sembra una sfera, giusto? Ma è così? E la luna sembra una sfera, vero? Ma lo è. Possiamo anche grandirla. Ci raccontano che la luna riflette la luce del sole. E qui vediamo la luna piena. Ma osservate bene come si riflette la luce su una palla. Sapete spiegare perché non copre tutta la palla? Nel riflesso di luce si vede solo un punto, come succede su qualsiasi superficie convessa. È naturale. Ma vi raccontano che la palla della luna completamente illuminata è il riflesso del sole. Prendete un binocolo e osservate la luna piena. Non con un solo occhio col telescopio o con la fotocamera. E capite da soli che non si tratta di riflesso, ma di luce propria. Altrimenti vedreste il riflesso come sulle sfere. E adesso osserviamo questo dalla voce che trovate su indice alfabetico luna sferica. Questi potrebbero sembrare quattro pianeti nello spazio, giusto? Esattamente come mostrano alla tv. Tutti hanno l'apparenza di sfere, vero? Ma si tratta solo di illusione ottica. Ecco la mia risposta ai credenti del globo quando chiedono Ma se la Terra è piatta, come fanno ad essere sferici gli altri pianeti? È come un biliardo credesse di essere una sfera perché vede le sfere su di lui. Come fate a sapere se sono sferici? Vediamo se sono così. Questa non è una sfera. A soli 20 centimetri non si riesce a distinguere che non è una sfera. Vediamo la prossima. È una sfera? Andiamo a vedere. Non lo immaginavate? Un disco piatto. E voi pensate che solo perché riuscite a vedere qualcosa che si trova a migliaia di chilometri di distanza è una sfera quando non sapete determinare la forma di quattro oggetti vicini a voi? Si trovano a qualche decina di centimetri e sareste in grado di riuscire a capire la forma di oggetti che si trovano a migliaia e migliaia di chilometri di distanza? È tempo di svegliarvi dalle illusioni ottiche e mentali create dalla grande menzogna indotta alle persone da entità malefiche. Sveglia, gente!